Perché i trattati economici europei sono in contrasto con la nostra Costituzione? Nel suo libro lei come è arrivato a queste conclusioni? Io ho fatto una ricostruzione storica essenzialmente, cioè mi sono posto nell'ottica retrospettiva cosa avrebbero pensato i nostri costituenti vedendo oggi gli effetti e i contenuti dei trattati europei che si susseguono negli ultimi decenni e che possono essere riassunti nella formula il vincolo esterno, cioè il vincolo esterno rispetto alla capacità italiana di governare la propria società, di governare se stessi per cui a un certo punto misteriosamente si afferma l'idea che gli italiani non sono in grado di farlo e hanno bisogno che qualcosa li limiti con forza, con autorità a livello sovranazionale e abbia questa funzione didattica, cioè ci insegni a vivere e a emendare le nostre colpe però è una cosa un po' contraddittoria perché la nostra Costituzione aveva segnato un percorso che poi era stato pur con alterne fortune rispettato in cui l'Italia invece se l'era cavata benissimo l'Italia era un paese industriale fra i più vivaci, fra i più forti del panorama mondiale ed europeo sicuramente quindi non è ben comprensibile intuitivamente perché questo modello costituzionale che era basato sull'intervento dello Stato dell'economia, era basato sulla considerazione dei diritti sociali cioè sul welfare, questo modello sia stato considerato inaccettabile Qual è lo spirito dei trattati economici europei? I trattati invece comportano che viene prima smantellato l'intervento a un primo livello l'intervento dello Stato nell'economia e successivamente attraverso la moneta unica e i vincoli fiscali che si accompagnano alla moneta unica conduce all'effetto di smantellare lo stesso intervento dello Stato sociale, cioè i diritti del welfare Questo tipo di visione, forte competizione, stabilità dei prezzi, banca centrale indipendente che non può intervenire sul debito statale è praticamente un sistema generalizzato che prende piede in tutto l'Occidente diciamo che parte con la liberalizzazione dei capitali, con l'affermarsi delle teorie monetariste in Europa trova una metodologia particolare di affermazione che è proprio quella dei trattati europei Com'è stato possibile che le società democratiche abbiano accettato lo smontaggio del loro sistema sociale, costituzionale e democratico? Prima di tutto occorre far pensare alla gente in un certo modo in modo che possa accettare questi cambiamenti come se fossero delle cose ineluttabili come se fossero delle necessità assolute e questo si ottiene attraverso il controllo del pensiero accademico e il controllo del sistema dell'informazione Chi si avvantaggia della bassa inflazione e della stabilità finanziaria così importanti per i trattati europei? Il creditore finanziario, il creditore in genere, si avvantaggia della diminuzione dell'inflazione E al cittadino serve? Il cittadino si trova in difficoltà perché la diminuzione dell'inflazione si ottiene normalmente agendo sui costi Il costo su cui si può avere una certa forma di controllo è quello del lavoro e quindi è il livello dei salari e il livello dei salari si controlla attraverso l'aumento della disoccupazione L'aumento della disoccupazione è lo strumento che viene accettato preventivamente come costo pur di arrivare alla stabilità dei prezzi E come si può uscire da questa situazione? Teoricamente uscire dall'euro e riconquistare la flessibilità del cambio è una soluzione che può dare un grande respiro all'economia italiana I trattati europei possono essere annullati o rivisti? Si può uscire da un trattato perché ci sono delle clausole come quella inadimplenti non era ad implenum, cioè io dico tu non hai rispettato certe clausole e io ti considero inadempiente, esco dal trattato oppure rebus extantibus, cioè le condizioni iniziali sono cambiate così drammaticamente e il mio danno, nonostante quello che tutti e due avevamo detto essere la ragione stessa del trattato, cioè ciò che lo giustificava questa giustificazione a seguito di questi cambiamenti è venuta meno io esco dal trattato queste sono le forme di protezione previste anche dal diritto dei trattati ma non arrivare a una vera revisione dei trattati nel senso di rendere i trattati cooperativi nel senso di rendere i trattati solidali nel senso di rendere dei trattati in cui esistano una condivisione dei costi finanziari della moneta unica questo è impensabile i tedeschi sono entrati sul presupposto che loro avrebbero potuto fare dei trattati il trampolino di lancio per la loro tradizione che è quella mercantilistica cioè quella di un'economia che vince in quanto esporta a danno dei vicini a danno in sostituzione della produzione dei vicini per loro è essenziale loro non sarebbero entrati nel trattato se non avessero visto che il trattato offriva nelle sue clausole questa possibilità è aperta